Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore Gesù Cristo, nel Tuo nome e per il potere del Tuo prezioso sangue, sigiliamo ogni persona, situazione o evento attraverso il quale il nemico cerca di nuocersi. Con il potere del sangue di Gesù, sigiliamo ogni forza distruttiva nell'aria, terra, nell'acqua, nel fuoco, sotto la terra, negli abissi dell'inferno e nel mondo in cui muoviamo ogni. Con il potere del sangue di Gesù, interrompiamo ogni interferenza e azione del maligno. Ti chiediamo, Signore, di inviare la Santissima Vergine Maria nelle nostre case e luoghi di lavoro, accompagnata da San Michele, San Gabriele, San Raffaele e il loro corteo di Santi Angeli. Con il potere del sangue di Gesù, sigiliamo la nostra casa, tutte le persone che vi abitano, menziona ciascuno per nome, le persone che il Signore inviera da loro e tutti gli alimenti e le merci ci si concede generosamente per il nostro sostentamento. Con il potere del sangue di Gesù, sigiliamo la terra, le porte e le finestre, gli oggetti e i pavimenti. L'aria ci respiriamo e con fede, mettiamo un cerchio del suo sangue attorno a tutta la nostra famiglia. Con il potere del sangue di Gesù, sigiliamo i luoghi che visiteremo e le persone, le imprese e le istituzioni con cui interaguiremo. Con il potere del sangue di Gesù, sigiliamo il nostro lavoro materiale e spirituale. Ghili affari della nostra famiglia, i veicoli, le strade e qualsiasi mezzo di trasporto ce useremo. Con il tuo prezioso sangue, sigiliamo le azioni, le menti e i cuori della nostra nazione affinché la tua pace e il tuo cuore possano regnare in essa. Ti ringraziamo, Signore, per il tuo prezioso sangue, attraverso il quale siamo stati salvati e preservati da ogni male. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.